Di che cosa l'uomo ha meno consapevolezza di se stesso e del potere nascosto in lui? Il potere che non solo può prolungare la vita del corpo umano fino a 1500 anni, ma anche dare la vita eterna. Che cos'è questo potere e perché la gente non lo sa? Come imparare a controllarlo, a vivere felicemente la propria vita e a sconfiggere la morte, la potenza di Dio nascosta nell'uomo? Sprecarla porta alla miseria e alla morte. Perché il suo ruolo importante è nascosto alla gente, ma nello stesso tempo tutti lo cercano. Quali scoperte fisiche hanno portato alla scoperta di questo potere? Quali nuovi orizzonti si apriranno per tutta l'umanità quando le persone saranno in grado di unire questa forza e indirizzarla nella direzione della creazione? Quale dono prezioso è stato dato all'uomo da Dio? In che modo l'uomo è simile a Dio? Per saperne di più, vedere Caledoscopia dei fatti in programma il 13 agosto 2022 su Allatra TV Italia. Iniziativa dei partecipanti al Movimento Internazionale Sociale Allatra di Romania e Moldavia. Iniziativa dei partecipanti al Movimento Internazionale Sociale Allatra TV Italia.